Clima natalizio e sentimenti di solidarietà aleggiano in questi giorni preludio del Natale in tutte le scuole di Gela. Grande organizzazione anche alla scuola Enrico Solito nella quale il pensiero è andato alle famiglie meno abbienti. Che festa dunque sia, ma con contenuti profondi. Questa è diventata ormai una tradizione quasi per la scuola Enrico Solito, perché già l'anno scorso abbiamo fatto una giornata della solidarietà che abbiamo festeggiato insieme a tutti i bambini, i genitori e gli insegnanti e tutto quello che avevamo raccolto l'abbiamo devoluto nell'anno passato alle varie parrocchie gelesi. Quest'anno proprio all'insegna della tradizione invece ciò che si raccoglierà, i fondi, i piccoli fondi che raccoglieremo da un versante andranno verso la casa della misericordia e dall'altra invece all'Unicef. In pratica tutto quello che qui vediamo è un lavoro condiviso grazie ai genitori, lo devo sempre dire, perché con l'aiuto dei genitori e i bambini sono stati realizzati dei piccoli lavoretti, hanno fatto un lavoro eccezionale. Chiaramente questo verrà devoluto all'Unicef, però io vorrei dire una cosa, questo progetto della solidarietà non è solo un momento dell'attività scolastica, ma rientra nel progetto di cittadinanza attiva, un progetto che noi abbiamo avviato dall'inizio dell'anno, partendo dall'idea di fare delle attività in modo tale che i bambini possano stare prima bene con loro stessi e poi con gli altri.